Si procede a ritmi serrati osservando una tempistica stringente. Allo stabilimento Timac di Barletta sono in corso le attività di verifica degli impianti, rimasti fermi per diverse settimane, così come procede la corrispondenza con gli enti locali per predisporre le analisi e i sondaggi richiesti dalla procura di Trani e concordati con la regione Puglia, finalizzati a fotografare scientificamente lo stato di inquinamento della falda sottostante l'impianto barlettano. Alla Timac sono convinti che le ispezioni confermeranno la presenza di una barriera naturale argillosa che isola il terreno dello stabilimento, impedendo che le ceneri di pirite prodotte nei decenni precedenti vengano a contatto con le acque sotterranee. Se così non fosse, la Timac si è impegnata davanti al PM Silvia Curione a realizzare un barrieramento artificiale per impedire ogni possibilità di contaminazione della falda. La magistratura, che a maggio aveva bloccato le attività dello stabilimento perché venissero avviate opere di bonifica ambientale, ne ha riconcesso la facoltà d'uso sino al 30 novembre prossimo, ma i vertici dell'azienda di fertilizzanti contano di chiudere le indagini entro la fine di settembre. Al momento i 51 dipendenti Timac non rischiano più il licenziamento, almeno sino al 31 gennaio 2019, quando aziende e sindacati si ritroveranno nuovamente attorno a un tavolo. I lavoratori sono attualmente in ferie e al loro rientro seguirà un periodo di cassa integrazione a rotazione. L'obiettivo a media scadenza dell'azienda, dichiarano dalla Timac, è quello di riavviare gradualmente l'operatività dello stabilimento di Barletta, reintegrando tutti i lavoratori.